annalisa allora ciao ti volevo fare questa domanda domanda molto attuale per il momento che stiamo vedendo speriamo che questo video quando lo guarderanno che sarà completamente inutile speriamo che poi in realtà potrebbe essere utile lo stesso perché ognuno potrebbe capitare individuamente si augura di no però ci possono essere degli intoppi come mai e quali sono le differenze tra chi ha superato questo momento pandemia chiamala poi a me non piace neanche questa parola però la usiamo così si capisce questa emergenza qualcuno è riuscito a superarla o anche a cavalcarla in un certo senso a livello di aziende e qualcun'altra no chiaramente parlo di settori uguali non di chi è stato aperto e chi è stato chiuso lì sarebbe troppo semplice io parlo di chi nello stesso settore ha avuto le stesse difficoltà ma uno le ha superate non dico con leggerezza però con un po più di strategia di leggerezza che poi non è mai leggerezza però passatemi il termine e qualcuno invece proprio si è giudato quindi quali sono gli ingredienti di chi ce l'ha fatto esatto chi ce l'ha fatto che cosa ha fatto e gli altri non hanno fatto allora per le mie conoscenze per la mia esperienza gli ingredienti principali sono tre e questi tre ingredienti io adesso ve li descrivo in maniera diciamo tecnica no però in molti sono naturali cioè sono naturalmente predisposti per questi ingredienti quindi chi non ce li ha li può coltivare allenare ma ci sta anche che ce li avete naturalmente gli ingredienti sono tre il primo è il mindset la mentalità quindi atteggiamento mentale stato emotivo comportamento quelli che ce la fanno sono quelli che sono determinati sono sono convinti sono affamati anche se hanno la pancia piena sono affamati di natura sono quelle persone che non accettano la sconfitta quindi si rialzano resilienti si rialzano si rialzano si rialzano quindi il mindset è il primo ingrediente anche entusiasti entusiasti sognatori chi non sogna quindi chi non ha una visione per la propria attività fa fatica io dico una cosa riguardo a questo se posso perché mi viene in mente le due tipi di persone che io incontro anche tra colleghi eccetera dico che ci sono delle persone che sono ripiegate su se stessi quindi guardano sempre quello che fanno sono abituate a fare delle cose e poi ce ne sono altre che si fanno delle cose perché le sanno fare ma guardano sempre avanti sempre oltre a prescindere dal momento di difficoltà ma anche nei momenti in cui le cose vanno bene perché un po' è stimolante da una parte e dall'altra potrebbe essere salvante nel momento della difficoltà uno dei nostri partner Alessandro Vella che avrete modo di conoscere sicuramente lui li definisce i practical dreamers i sognatori a volte parla un po' così eh noi siamo un po' più terra terra poi me lo fa tradurre si metti il sottotitolo no al practical dreamers sognatore pragmatico cosa vuol dire che con la testa vai avanti vai in alto e vedi un qualcosa che non c'è ma che ti piacerebbe realizzare e con i piedi stai per terra che mi porta al secondo ingrediente vincente ovvero devi avere controllo sui tuoi numeri tutti i numeri in un altro video abbiamo parlato delle quattro aree fondamentali delle quattro ruote di ogni attività e lì ci devi avere i numeri tutti i numeri ce li devi avere sotto mano una volta alla settimana una volta ogni 10 giorni dipende dalla tua attività tutti devi aprire un file excel e lì ci devi avere tutti i numeri che ti dicono come va come non va la tua azienda perché chi ha i numeri sotto controllo intanto ha i conti pieni o comunque sani quindi quando annusa che c'è un'emergenza o un periodo dove è un po' più magra già non va in sopravvivenza e questo per la testa ragazzi io che sono stata in sopravvivenza per anni vi posso dire che fa tanta differenza poi chi ha i numeri sotto controllo riesce a capire subito o dio sta succedendo qui devo riparare e quindi ripari prima del danno quindi secondo ingrediente devi avere i numeri sotto controllo è un po' come l'automobile noi facciamo sempre se noi non avessimo la spia della della riserva sai quante volte rimarremo a piedi a piedi che magari si sfascia o l'olio che si sfascia il motore quindi i nostri numeri sono quelle piccole spie che si accendono nella macchina che proteggono la salute della macchina quindi voi ci dovete avere le spie le spie non solo a volte non c'è neanche proprio il tachimetro proprio non c'è quindi non so se c'ho il pieno se c'ho il vuoto e invece il numero ci dà sempre quindi chi ce l'ha fatta è perché aveva una salute organizzativa economica perché aveva i numeri sotto controllo in ultimo chi ce l'ha fatta a livello diciamo delle piccole quindi piccole attività è perché aveva una lista di clienti sulla quale fare eleva rapidamente per continuare a fare entrare in cassi meno in cassi più bassi ma in cassi quindi non è mai andato in liquidità zero o sotto zero c'è sempre stato un flusso di cassa anche seppur basso queste tre cose secondo me chi è riuscito a farle o perché la indovinate o perché qualcuno magari gliela spiegate ce l'ha fatta nella mia esperienza e per la mia conoscenza ce l'ha fatta fantastico grazie prego ciao